Diciamoci la verità, sappiamo tutti che dovremo allenarci un pochino di più, ma c'è sempre un motivo per non farlo. Gli amici ci invitano per un happy hour alle 6 proprio quando dovevamo andare a farci quella camminata, oppure abbiamo troppe cose da fare o chissà che altra scusa ci arriva dall'alto della nostra ispirazione. Siamo sempre molto bravi a inventare qualunque scusa super razionale, scientificamente provata, per non fare qualunque cosa che richieda un minimo di sforzo, anche se sappiamo che ci farebbe molto molto bene. E così finiamo per non fare nulla, fino a quando un bel giorno ci svegliamo super motivati e diciamo sì questa è la giornata giusta, da oggi in poi spacco tutto. Andiamo in palestra, ci spacchiamo letteralmente, facciamo un allenamento super intenso di tre ore, torniamo a casa, il giorno dopo non riusciamo nemmeno a sederci su una sedia o ad alzare un bicchiere da quanto stanchi e da quanto male i nostri muscoli fanno. Ovviamente non torneremo in palestra per i prossimi due mesi, fino a quando il nuovo fulmine di ispirazione non torna a colpire ancora. E poi ci lamentiamo che non riusciamo a vedere risultati, ma c'è un modo per rendere l'allenamento e il movimento qualcosa che non solo smettiamo di rinviare, ma che non vediamo l'ora di fare. Ed è a cominciare con qualcosa di minuscolo. Quando cominciamo da qualcosa di davvero piccolo, da un impegno minimo, non solo non abbiamo bisogno di ispirazione, non abbiamo neanche bisogno di grande forza di volontà e abbiamo molte più probabilità di rimanere costanti. E no, non è qualcosa che ho letto in un articolo su internet, anche se ce ne sono veramente molti, quindi ti consiglio di dare un'occhiata. È qualcosa che ho sperimentato su me stessa. Qualche tempo fa la corsa è diventata la più ovvia alternativa alla mia pratica yoga quotidiana, che ho dovuto interrompere per un periodo piuttosto lungo a causa di un forte dolore alla spalla. Eppure avevo bisogno di qualcosa che mi consentisse di muovermi e di continuare a sfogarmi. Ma cavolo quanto odiavo correre! Mi trascinavo con un piede davanti all'altro e sono praticamente durata una settimana, dopodiché ho lasciato perdere, fino a quando non ne ho parlato con un mio carissimo amico che corre da diverso tempo. Ero convinta che fosse un superuomo, che avesse dei poteri magici per amare la corsa così tanto, invece lui mi dice comincia semplicemente con un minuto di corsa e un minuto di camminata e vai avanti così per almeno due settimane. Tra due settimane aumenta due minuti di corsa e un minuto di camminata, due minuti di corsa e un minuto di camminata. E continuo ad aumentare gradualmente di settimana in settimana. Non ero davvero convinta di questa soluzione, dentro di me pensavo come può un minuto di corsa e un minuto di camminata aiutarmi ad avere, a raggiungere qualunque obiettivo. Però, visto che era evidente che le soluzioni estreme non stavano funzionando per me, ho deciso comunque di fare un tentativo. E caspita se il mio amico aveva ragione! Questa piccola soluzione mi ha consentito di smettere di rinviare il mio allenamento e di guarire la mia spalla nel frattempo, mentre comunque mi tenevo in forma. Quindi, se piccole soluzioni sono la chiave per risultati costanti e duraturi nel tempo, che cosa puoi cominciare a fare per la tua salute e per il tuo corpo di così piccolo che neanche te ne accorgi a partire da oggi? Condividilo subito con la tribù nei commenti qui sotto, perché ricorda che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltascool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce!